Si tengono in casa, come se fossero figli nostri, non ho cosa, non ho cosa, non vuol dire qui non siamo, dove vai tu, dove vai tu, ora ti mando io in galera, te ne vai in galera, te ne vai, vergogna, guarda che stai a fare, vergognati, vergognati, cosa, cosa fai, cosa, cosa fai, cosa, a mangiare, te ne vai al lavoro, come lavorano tutti, invece di tenere anche le sigarette, i soldi ce le hai delle sigarette e non hai soldi per comprarti il pane, vergognoso, schifoso, schifoso che non si è altro, schifoso, vergogna, guarda qua, guarda che sta a fare questa povera creatura, guarda qua, vergogna, vergogna, dove andiamo a questo paese, andate a mangiare, vedo che le sigarette qui ci sovero, quindi non è mangiare quelli, non è mangiare quelli, non si comprano, gatto, 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 come ti fai invece di ammazzare la creatura, si, si, ti preoccupa, ti preoccupa, vergognoso, schifoso, messo di meta, messo di meta, messo di meta, i soldi ce l'hai i soldi ce l'hai